Un saluto a tutte le autorità presenti. Non vi posso indicare partitamente perché siete davvero numerose e questo è molto significativo, ci ritornerò. Abbiamo qui autorità civili, regiose, accademiche e veramente con una presenza cospicua e un caro saluto agli studenti perché siamo qui in questo luogo, come è stato sottolineato, per inaugurare un corso di laurea. Quindi buon anno accademico e davvero vi auguro di poterlo frequentare con la massima dedizione, con il massimo coinvolgimento e col massimo profitto. La folta delegazione governativa non può sfuggire, non può sfuggire. Il fatto che io sia qui oggi con tanti ministri, qui presenti abbiamo il ministro Provenzano, il ministro Manfredi che abbiamo sentito, abbiamo il vice ministro della salute Sileri, il sottosegretario turco, ma ci sono altri ministri che ci hanno accompagnato in questo viaggio. È un viaggio particolare. Oggi noi compiamo un passo significativo a Taranto perché inauguriamo questo corso di laurea. Abbiamo appena posto la prima pietra dell'ospedale San Cataldo, proseguiremo adesso nella sottoscrizione di vari contratti che costituiscono altrettanti progetti di rilancio per questa città. È un messaggio forte quindi che noi diamo, ma come è stato detto anche non è un annuncio. Oggi stiamo scandendo dei passaggi concreti, li stiamo sottolineando e ovviamente c'è anche qualche momento celebrativo in questa giornata, ma sono tutti passaggi nel complesso operativi, molto concreti, molto operativi. Il messaggio è che il governo ha preso degli impegni. Io non vi sarà sfuggito che non amo parlare di promesse, prevesco parlare di impegni che poi vanno mantenuti e vanno concretizzati. E in particolare dedicati a Taranto, ma anche al mezzogiorno. E in particolare il mezzogiorno deve puntare sull'educazione, sulla ricerca, un rilancio quindi a tutto tondo, sociale, economico, ma soprattutto anche culturale. E qui oggi parliamo di scienza, di scienza medica, perché abbiamo un nuovo corso di studio, di laurea in medicina e chirurgia. Io ringrazio le autorità accademiche che hanno lavorato intensamente per questo risultato. È stato accreditato con delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR. Quindi questo è un corso non più mutuato, ma autonomo a tutti gli effetti. Quindi cara Francesca, tu con i tuoi colleghi frequenterete un corso del tutto autonomo. E' frutto non solo dell'impegno delle autorità accademiche che abbiamo ascoltato, di Bari e delle autorità locali, ma è anche il frutto di una precisa scelta anche strategica del Ministro Manfredi, il quale ha voluto ampliare l'offerta formativa di medicina sull'intero territorio nazionale, accrescendo di oltre 800 unità i numeri dell'accesso programmato a disposizione dei giovani aspiranti studenti di medicina. Quindi noi abbiamo dato un segnale preciso e continueremo a lavorare, Ministro, in questa direzione, perché questo è anche un modo per rafforzare il sistema sanitario nazionale. Quindi Francesca, facciamo una cortesia a voi, ma facciamo una cortesia a tutti, alla comunità locale, a tutto il sistema sanitario nazionale. E ovviamente un corso di laurea in medicina non può sfuggire, che qui rappresenta in particolare a Taranto un'opportunità di crescita culturale, sociale, un volano per rilanciare la sanità locale, contribuendo anche al potenziamento del polo universitario ionico di Taranto. Come dicevo, abbiamo posto anche la prima pietra per l'ospedale San Cataldo, che la comunità territoriale e locale attende da tanti anni, è stato ricordato. E vi assicuro che noi, con tutte le autorità territoriali, quindi col Presidente Emiliano, col Sindaco Meuzzi, noi saremo qui, attenzione, per controllare i lavori, l'andamento dei lavori. Quindi ci premureremo che la realizzazione di questo progetto e l'ospedale così tanto atteso rispetti i tempi previsti. Vogliamo coniugare didattica, ricerca, in particolare in ambito medico, in particolare nella medicina del lavoro, dell'oncologia, e in campi, nel campo strettamente sanitario. Dobbiamo creare occasioni per approfondimenti di eccellenza nel campo delle tecnologie ambientali, di bonifica, ecotossicologia. E' questo che ci ha chiesto la comunità locale. Io all'incirca un anno fa, e sono tornato, abbiamo ascoltato tutti gli esponenti della società civile, tutte le varie espressioni di varie associazioni locali. Abbiamo compreso che la politica doveva cambiare passo, la politica anche nazionale. Abbiamo compreso che il momento di riscatto per Taranto non poteva più tardare. E se oggi parliamo di questi risultati, vedete, qual è la ricetta? Beh, è stato detto. È stato detto ed è dovuto alla presenza di tante autorità. Abbiamo tutti lavorato nella stessa direzione. Quindi il primo passaggio è stato ascoltare e comprendere. occorre una, i greci la chiamavano una simpatia, simpatia, condividere quello che è il dolore e la sofferenza di una comunità locale. Da lì partire per elaborare una visione strategica, occorre una forte determinazione, occorre una costante applicazione. È stato ricordato, vedete, oggi noi c'è un passaggio celebrativo, ma dietro ci sono tanti incontri che abbiamo fatto. A livello, ad esempio, di contatto istituzionale di sviluppo, abbiamo fatto tante riunioni di vertice a livello politico, ma abbiamo fatto all'incirca 86 riunioni operative. Io non li posso menzionare perché ci sono un elengo lungo, ma ci sono tante figure che hanno lavorato, ciascuno per la propria competenza, per raggiungere questi risultati, per sottoscrivere oggi questi accordi, per dare vita a queste realizzazioni progettuali. 86 riunioni operative, occorre anche costante applicazione. Poi ancora, occorre una collaborazione, una leale, convinta collaborazione tra le istituzioni. Significa mettere da parte personalismi, significa riuscire ad abbracciare una prospettiva sinergica, in modo da potenziare la forza dell'azione che altrimenti, se dovesse rimanere singola, ovviamente non potrebbe essere destinata al successo. Da ultimo ci vuole un'amalgama, la capacità di tutti di metterci il cuore, di abbracciare una prospettiva generale, la prospettiva del bene comune, scacciando via le tentazioni che sono caratteristiche anche dell'essere umano, di derive personalistiche, di qualche incomprensione che si può creare, e quindi una prospettiva che sia superindividuale, ma al di là della nostra testa, anche perché, io lo dico sempre, quando si crede fenomeni indispensabili, poi basta fare un passaggio in un qualsiasi cimitero per vedere tante lapidi di indispensabili. Ecco allora, qui gli attori in campo sono tantissimi, per questo corso di laurea in particolare, ricordo, oltre che ovviamente il governo, ma c'è stata la Regione, il Comune e la Banca d'Italia, che saluto e ringrazio nella persona del suo vice direttore Cipollone, c'è stata anche una grande disponibilità da parte loro. Abbiamo fatto, con questa predisposizione, con questo atteggiamento, con questa collaborazione, quello che di solito si fa in anni e anni. Quindi in poco tempo, in pochi mesi, sono fatti contratti, convenzioni, sono superati tantissimi lacci, laccioli burocratici, perché noi non abbiamo fatto per Taranto un decreto ad hoc per creare un'autostrada e quindi una corsia preferenziale nei vari passaggi normativi e burocratici. Siamo riusciti, con la disciplina esistente, a lavorare. Quindi si può fare anche con la disciplina esistente, normativa. Francesca adesso si è allontanata, però non c'è sfuggita la sua emozione, non c'è sfuggita la sua commozione. Ah, ecco, sei qui. Non c'è sfuggita, scusa, non è molto elegante parlare delle tue emozioni. La tua commozione. Io ci ho letto anche, forse sbaglio, ma la rabbia, ci ho letto anche il dolore, la sofferenza per una comunità locale che ha accumulato tante, troppe ferite nel corso del tempo. Quello che ti posso garantire, vi posso garantire a voi studenti di questo corso di medicina, è che la politica continuerà a perseguire questo progetto di rilancio di questo territorio. Continuerete quindi a vederci qui. Alla fine diventerà una presenza molesta, perché alla fine non ne potrete più. Ma questo significa che continueremo a lavorare tutti per realizzare questo progetto, che è un progetto, come avete già visto, e come poi oggi vedrete, a fine della giornata avrete un quadro più, più chiaro, è un progetto di rilancio politico, economico, sociale e culturale. Taranto è una perla del Mediterraneo. Ma noi non possiamo permettere un Paese che ha così tante ambizioni, che una sua perla possa così ormai essere degradata a tal punto da non riuscire più ad essere un faro nel Mediterraneo, nel mare nostro. Questo progetto di riconversione, di valorizzazione della città, prevede e si inserisce in un progetto più ampio, in un progetto più ampio che ovviamente abbraccia non solo iniziative specifiche qui a Taranto. Penso ad esempio al laboratorio scientifico guidato al CNR che servirà ad analizzare i prodotti merciologici, a rilasciare le certificazioni agroalimentari di quarta gamma. Penso anche al tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile a quale saranno affidati i compiti di ricerca, di trasferimento tecnologico, nell'ambito delle fonti rinnovabili e dell'economia circolare. ma stiamo peraltro anche, aggiungo, predisponendo per il futuro un centro di ricerca salute e ambiente per le malattie del lavoro, sul lavoro. Cioè stiamo facendo dei progetti mirati per questa città, mirati per questa comunità, cercando di, lavorando con tutte le autorità territoriali, locali, cercando di individuare quella che può essere la vocazione, ma di eccellenza, di questo territorio. E ovviamente il tutto si inserisce in una prospettiva più elaborata, più articolata, che prevede di puntare, anche con le risorse europee, con le famose risorse del Recovery Fund, di puntare sulla istruzione, formazione, ricerca e cultura. Questa è una missione, l'abbiamo chiamata proprio così, una specifica missione, anche che troverete nelle linee guida che andremo a discutere proprio in questi giorni con il Parlamento, che caratterizzano il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza che presenteremo a Bruxelles. e quindi andremo a investire somme cospicue, con progetti ben mirati, per rafforzare le competenze digitali e qui non a caso abbiamo un laboratorio virtuale tra i più sofisticati e avanzati nel campo della medicina, qui, in questa sede. Avrete quindi questa possibilità. Dobbiamo lavorare molto anche per quanto riguarda i percorsi formativi e la formazione dei docenti, dobbiamo sostenere il diritto all'istruzione e potenziare la ricerca e attrarre i ricercatori, dobbiamo fare progetti mirati, specifici, per contrastare la povertà educativa alla dispersione scolastica, che è altissima, soprattutto nel mezzogiorno. Ecco che solo così noi andremo a potenziare questo raggio di intervento, perché da un lato concentreremo molte risorse nell'ambito del nostro piano di ripresa in questo settore e dall'altro tutto questo si verrà a combinare con una strategia poi specifica per l'intero mezzogiorno. E qui c'è il Ministro Provenzano. Il Ministro Provenzano come tutti i Ministri non ha aspettato certo le risorse europee per lavorare, ha presentato, non vi è sfuggito, un piano Sud 2030 e uno dei piani più articolati che si erano stati mai prodotti. Ma soprattutto qui la questione meridionale, pur essendo l'un intellettuale e come me, avendo anche una vocazione come dire, teoretica, però abbiamo un atteggiamento molto concreto. In quel piano per il Sud ci sono misure specifiche per colmare quel gap che si è creato tra Sud, Centro e Nord. e in questa adesso non vi indico le specifiche misure, ma sicuramente sono misure di sistema, così le intendiamo, quella previsione della clausola del 34% delle spese in conto capitale da destinare costantemente al mezzogiorno. è stata una svolta quella. D'ora in poi le spese in conto capitale devono in modo vincolante rispettare questa ripartizione e nella legge di bilancio 2020. Come pure una misura strutturale intendiamo, grazie sempre all'impegno del Ministro Provenzano, quella riduzione del costo di lavoro a beneficio delle imprese senza nessuna decurtazione per i lavoratori del 30% del costo del lavoro. Ecco, il mezzogiorno è non solo Taranto. Taranto richiede progetti mirati, ma l'intero mezzogiorno richiede un rilancio. E' qui che dobbiamo colmare quel divario digitale. E' qui che dobbiamo cablare in particolare le aree bianche. Perché se non c'è accesso a internet ecco perché il progetto della rete unica è fondamentale. Se non c'è oggi accesso a internet non possiamo realizzare quel meraviglioso programma che è nell'articolo 4 della nostra Costituzione che è un'espressione bellissima perché ci rende tutti, afferma il diritto di tutti di essere partecipi alla vita politica culturale economica sociale del paese ma per essere protagonisti dobbiamo avere tutti parità di chance e quindi pari accesso innanzitutto a internet a tacere d'altro. La nostra strategia nel campo dei percorsi formativi della formazione superiore l'abbiamo anche annunciata col ministro Manfredi vogliamo favorire la ricerca integrata multidisciplinare complessa rafforzare la ricerca di base vogliamo promuovere la ricerca mission oriented e dobbiamo avvicinare la ricerca alla formazione l'abbiamo già annunciata in altri interventi l'università ha un ruolo importante qui consolidare questa presenza accademica è fondamentale l'università è fucina di saperi competenze e professionalità ed è promotore a livello anche sociale di buone pratiche noi le chiamiamo best practices perché ormai accediamo a queste formule anglofone le comunità quindi accademiche ed è non solo rinnovo l'augurio di buon anno accademico a voi studenti e studentesse ma anche le autorità accademiche anche a loro rivolgo un grande invito è un grande augurio siete chiamati a svolgere una funzione di supporto di controllo e di indirizzo delle tante realtà che insistono nei territori di riferimento io sono sicuro che da questa comunità accademica scientifica tarantina grazie anche a questo nuovo corso e alle altre iniziative che creano una sinergia l'una con l'altra sapremo saprete tutti dare un forte contributo a questo territorio perché è chiaro che l'impulso e le condizioni devono essere create dai responsabili decisori politici pubblici ma poi ci dovete mettere tanto cuore e tanta testa voi grazie grazie signor presidente del consiglio il magnifico rettore consegna il sigillo dell'università grazie 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 grazie